In questo dodicesimo capitolo della modalità storia di Mortal Kombat X, siccome Cassie Cage aveva sconfitto la Revenant Sindel, ora vediamo come se la cava contro Kitana. Kitana è di nuovo assassina. Prima la madre e adesso la figlia, è vero? Non mi piace Kitana, che è una Revenant dell'Inferno. Bene, Cassie ha sconfitto anche Kitana. I due Revenant come Sindel e Kitana sono state sconfitte ed eliminate da Cassie. Io vi saluto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale.